Si chiama Francesco Fedocci, 31 anni, romano, proviene dal nucleo investigativo di Frascati, è il nuovo capitano della compagnia Carabinieri di Sapri. Mi aspetto di vivere una bellissima esperienza professionale che contribuirà alla mia crescita, ha detto il nuovo capitano ai microfoni di Francesco Lombardi. A Sapri, Fedocci prende il posto di Matteo Calcagnile, la cui permanenza alla guida della compagnia è durata tre anni e mezzo, prima del trasferimento presso la scuola Allievi di Reggio Calabria, dove ricopre il ruolo di comandante e di insegnante ai nuovi corsi di giovani carabinieri. Penso che ha conosciuto la sua squadra. Sicuramente ha avuto i primi tempi per cercare di ambientarmi e vedere un po' i territori e conoscere al meglio queste splendide località in cui sono chiamato a lavorare. Che cosa si aspetta dalla sua esperienza qui nel Golfo di Policastro? Mi aspetto sicuramente una bellissima esperienza professionale che mi consentirà di crescere da un punto di vista professionale. Sicuramente sulla scia di quanto fatto già in maniera ottima dal mio predecessore continueremo nell'opera, cui l'arma ci tiene molto, della rassicurazione sociale e della prevenzione del crimine. Adesso prenderò cognizione di tutte le situazioni che sono in corso e poi prenderemo i necessari accorgimenti.